Ciao a tutti ragazzi, io sono l'agente Ale e siamo qua per concludere RC2 e... Il nostro cammino su RC2 insieme a Jack Gordon Eh, infatti... Dopo tre anni di... Disbettimento di falle di questo gioco E di lag, porta puttana di lag E di lag, infatti adesso 330 di pincenzo che non so da dove provengano Anche se di solito non c'è qua Sì, vabbè Un'ottimo regio Sì, c'è un po' Ok, questa è il funerale di RC2 Sì Faremo... Dovremo più a chi Vabbè, è iniziato un match Dopo... Una partita a Reddown Può senso, vedremo loro Non so se ci sa... Ah, sanno anche nell'altro team Vabbè Vabbè, cosa ne pensi di RC2 Vabbè, questa... Vabbè, questa... Ma me l'hanno fatta già nel fatto da... Un sacco di volte Non si... Ah, non carica neanche dei text Come ho già detto Eh, comunque come sarà sarà il RC2 comunque mancherà tutto Pesimo, anche se è un giochino stupido letteralmente che... La maggior parte del mio tempo Ho spesso quasi 150 euro di attrezzature E io molto pure di più, soprattutto un sacco di tempo fa Porca puttana c'è uno col panzer Dio, non mi carica ho l'M16 al posto del Pregator Io ho anche l'ottura di panne Perchè che mi voglio d'auto Non pensate che sia un buon commentere Giusto per dire addio A questo bellissimo Dopo... dopo... dopo tre anni di... questo video gioco Ovviamente... Ovviamente... Un sacco di persone con l'hashtag NORCF Ovviamente perchè... Ecco... Appena entrato uno NORCF Sì Anche... Ma questi qua sono l'unico... Ok dai, va benissimo Non fa niente Bene Bene Va bene questa partita è finita Va bene Va bene Molto bene E adesso ci troviamo a... Reddown Andò Più tardi Ciao a tutti ragazzi Eccoci qua Siamo tornati finalmente in questa mappa che ha segnato la nostra storia La storia Da giocatori di... La storia di questa... Di questo gioco per noi perchè... Non so quante partite abbiamo fatto Però... Nonte Tante CVA Tante CVA, CVC Che cazzo è questa musichetta Eh eh la suoneria Questa la tagli vero? No Bastardo Vabbè per una suoneria Vabbè dai la suoneria Lo fa ancora tutto Il lavoro è per una suoneria Beh avrei avuto Avrei avuto Vuoi fare un video addio a questa reddata Eh sì Questa qui questa mappa con la pieno di... pieno di glitch Pena di... Pena di... Di buone posizioni precanterare Per lanciare i gol Ci vuoi I torneo Madonna Il torneo Ci vuoi dalla mattina alla sera Controligo soft dead quando me lo scorderò mai è stato fantastico non so come dirlo però mi mancherà questa redown io spero soltanto che tolgano la porta tolgano la porta in cui tu possa passare e tolgano gli spawn quelli in cui non puoi chillare dentro la base perché mi fa veramente schifo perché loro da fuori possono spararti a te che sei cioè no aspetta se ho sbagliato per loro da dentro possono sparare anche fuori e noi non possiamo fare il contrario ma sei una cazzata assurda eh eh cazzo brutti deve bastarti del cazzo ascoltateci noi che ci giochiamo a sto gioco mentre voi potete aggrattarvi le palle brutti stronzi ma tipo come Alex riceve un bacio per insulti riceve un bacio per insulti ma ormai questo chiocco anche se ci ho sprecato tre anni e e e tanti coni 150 euro di coins madonna ma sono pochi si è ricordato quando andavamo a fare le pesi a parla a quando ci metterò un accordo si o il pomeriggio vado a farvi la pesi ti compri coins tipo la nonna si è poi devo ricordare che una volta Fabio io non mi ricordo che non so come ho fatto vuoi andare con il sartegno sono in base a me si si mi ricordo poco così a caso dopo sono dovuto andare io ma quando ti facevo quel brogli tra il sito della roccheter si si che andavamo il sito della rocchetti e perché parli di meno rispetto a me si è piuttosto ma pure rispetto a facebook soprattutto mh per chi gioca da facebook è sfortunato perché non ci credo purtroppo non è tutto con la concorrente ma se per tutte le risate poi tutte le le partite fatte con lvx il formato io ho visto posto campo tutte le tutti cibo a tutte le bestemme tirate per farla c'è tutto quindi concludo con una visuale i perdi l'impianto se il giudizio bella e mancherà c4 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 c3 e il muoio infatti la sua rt a non bene ci vediamo in santo che ormai c'è segnato anche quello a dopo se non ho trovato è una delle cose che più la cosa per molta gente dovrebbe bere però anche una delle che ha fatto emozionare che abbiamo avuto il torneo contro ligo softball io che ricordo quando i camperati ti ricordi con i gt qua io ho fatto con il tratamento dei controlli amici vabbè il santo diciamo che tra virgolette è una delle macchie non è cambiata il centro del tecno 30 il fondo l'assessi lo cambiate tante cose mancherà devo dire caccia con il pubblico di aspetta un tipo bloccato ma passeggio con un caccia armato attento che dovrebbe esserci uno là 1 sono un discorso vedo un veicolo fai infatti di vita cazzo devo uscire l'armero questo bene questa capo del giorno qua davanti 3 tutto per far far farlo non mi fido di sono un bravo pilota guarda tu come guidarmi e feste un veicolo ma steve votando ma mai sono nooo what the fuck cazzo mi sono passato nelle rocce ecco poi mi mancheranno le guerre per premere l'elicottero e concludiamo in bellezza prendendo l'elicottero qui nooo dai che figlio aspetta 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 prendo l'elicottero no dove sei tu ah anche tu vieni facciamo un giro dai vieni 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 alla 007 l'elicottero l'elicottero non ho lasciato la girando asustare si con tu bravo mangiare che pilota warriors via conquistando costello una missione segreta si dice che le texas per la differenza oh 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 ma che cavolo mi arrivano non so che ero sbattuto contro un palo della luce non ci credo ma anche come ma tolta mi carmi vabbè c'è una bella distruzione del del mio veicolo però dettagli un po' ora forse ce la fa ho preso il vicolo più veloce di rosserva sul castello forse per l'automobile dai non ho preso dai non ho preso non ho preso sa col baggio lasso giugno no dai il primo morto di inda ecco l'ambientale poi vorrei ricordare qui tutti i cv ha fatti si tutti i camperaggi con il golden si da chilometri poi vorrei ricordare i vecchi come si chiamano i vecchi judgment day madonna santissima non si sa più dove sia finito ma come chiudere bene con un bel 0 3 si è capace di guidare un cazzo di elicottero non si sa più dove sia finito ma come chiudere bene con un bel 0 3 ti ricordi contro i lemnese i lemnese giugno si ti chiamano no mi pare i lemnese scarta beh a 73 sti che abbiamo battuto i lemnese scarta grazie ad agente alex l'agente alex a giova e a bitz puntana troia quanti anni fa ah no ok vabbè ok perché sono in un bell'immagine vedo le montagne vabbè difficile chiudere è brutto è difficile lasciare questo povero più del gioco lasciare soprattutto questo plan vabbè cranno sempre sempre fiero sempre fiero per tutti quelli che se lo chiedono no gli onori non falleranno no non falleranno mai no stiamo ci stiamo dilagando in altri giochi si in risparso come si vedete che vedrete sempre in qualsiasi gioco arriverremo a fare i tornei mondiali di league of legend di counter strike di battle quindi calo più di qualunque non ci interessa diventiamo milionare faremo vabbè siamo arrivati al punto all'apice della fantasia per mai questo gioco diciamo che boh ho conosciuto tanto abbiamo conosciuto tanta gente forse anche troppa si infatti guarda la france la france la france vis la france rossa e chi chi si ricorda un mici perfino vuol dire te la pubblica vuol dire vabbè 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 questo video purtroppo finisce qua questo è l'ultimo video che pubblico riguardante rc2 a me il penultimo eh a me il penultimo forse forse per vuogere il penultimo però vedremo e ci tocca arrivederci a rc aspetti a red classibull fast bella bella a tutti